Una bellissima notizia. Dalla prima giornata di screening sulla popolazione scolastica del comune di Salerno, alunni, docenti e personale, non c'è nessun caso positivo. Con entusiasmo questa mattina l'assessore alla scuola del comune di Salerno, Eva Avossa, ha reso noto il risultato dei test molecolari che ieri hanno registrato l'80% delle adesioni tra gli alunni e il personale dell'Istituto Comprensivo Giovanni Paolo II a Torrione Alto. Oggi la campagna promossa in collaborazione con la Regione Campania e la Fondazione Ebris, tesa a verificare l'esistenza tra i banchi e nelle aule riaperte alla presenza di possibili positivi e sintomatici, ha fatto tappa la scuola Matteo Luciani presso l'elementare Mazzetti e la media Monterisi a Pastena. Ma l'assessore Avossa ha confermato che lo screening verrà effettuato anche sabato e riguarderà anche le scuole superiori. Da sabato si parte con l'Istituto Focaccia. È stata un'adesione notevole, siamo all'80%, dobbiamo considerare ovviamente che ci sono delle classi in quarantena e che ovviamente la popolazione dei bambini delle scuole dell'infanzia non è stata inserita in questo screening. Ancora per adesso si sta provando a vedere insomma di fare quello salivare per i più piccoli ma questo insomma non è non è ancora certo quindi insomma procediamo in questo modo per la scuola per il primo ciclo e inserendo anche il sabato alcune scuole del secondo ciclo degli istituti superiori che essendo aperti il sabato hanno dato una disponibilità e si comincia sabato dal Focaccia. Quindi credo che sia andando molto bene, sono andata nelle scuole sia ieri che oggi, i bambini sono tranquillissimi, non hanno avuto nessun trauma e come dire oggi poi ci sono le scuole medie quindi sono già un pochino più grandi ma devo dire che i bambini più piccoli perché sono stata anche nelle scuole primarie sono tranquillissimi, c'è un'organizzazione perfetta sia da parte dell'Ebris che delle scuole, va bene così.